Mi chiamo Anna Ruffino, sono la Consolae d'Italia Caracci, Pakistan. Ho frequentato dal 2003 al 2006 l'Università degli Studi di Pavia, in particolare il corso di laurea triennale in Scienze e Relazioni Internazionali. Vorrei dire a tutti coloro che stanno pensando di iscriversi che è un'ottima università innanzitutto ed è un'eccellente facoltà se siete interessati alle carriere internazionali come la carriera diplomatica. In particolare io vorrei sottolineare un paio di cose che sono particolarmente positive di questo corso di laurea. Innanzitutto la trasversalità delle materie. Io ho frequentato la triennale a Pavia e devo dire che la maggior parte delle materie che vengono insegnate nel corso di studi sono materie che vengono richieste poi in sede di esame. Quindi sono le basi per poter costruire poi eventualmente ovviamente con una specialistica e anche un master il proprio percorso di studi per arrivare preparati al concorso diplomatico. La seconda opportunità che ho avuto dall'Università degli Studi di Pavia è stata quella di fare l'Erasmus in Svezia. Io mi sono laureata con una tesi sul Ministero degli Esteri Svedese in Scienze Diplomatiche un corso ottenuto dalla professoressa Arianna Rizirota che all'epoca si chiamava Storia della Diplomazia. E devo dire che ho avuto l'opportunità di fare questa tesi in loco in Svezia grazie alla borsa di studio che mi ha dato l'Università di Pavia per fare l'Erasmus. Quindi è stata una grandissima opportunità per me per andare all'estero, conoscere una nuova cultura, un nuovo metodo di studio e soprattutto capire che questa era veramente la strada che volevo intraprendere. Inoltre è stato, grazie all'Università di Pavia, si è incontrato una collega diplomatica che era venuta a parlarci un po' della carriera e che ci aveva ispirati moltissimo. Io ricordo che le sue parole mi avevano incoraggiato moltissimo a tentare il concorso. Voglio farlo anche con voi, voglio dirvi che il concorso diplomatico è un concorso molto duro ma anche estremamente trasparente. Quindi se studiate, se arrivate ben preparati, non c'è motivo perché non ho passato. E se siete interessati anche alle carriere diplomatiche e alle carriere internazionali, l'Università degli Studi di Pavia offre nella Facoltà di Scienze Politiche senz'altro una grande opportunità di arrivare preparati al concorso e di formarvi per la vita. Quindi vi auguro buona fortuna e grazie per avermi ascoltata.